Un uomo come lui accantola si può dire una gloriosa carriera per mettersi al servizio, devo dire è un grande onore, perché le persone per bene servono alle mamme per bene che vogliono portare avanti i figli con decoro e dignità e se queste strutture esistono è perché queste persone, e noi lo sappiamo, si batteranno perché sempre di più lo Stato tenga presente il sud Italia e soprattutto in realtà come Scampia. Veramente lo ringraziamo per la disponibilità che ci ha dato, non a venire qua stasera, ma la disponibilità che ci ha dato a candidarsi e quindi a prendersi un pezzo di responsabilità. Grazie per questo invito, allora io mi presento, sono Sandro Ruotono, per 46 anni ho fatto il giornalista, sono napoletano, lo sento con molto orgoglio. Questa elezione si vota soltanto in questo collegio e quindi è un collegio con 13 quartieri di Napoli, con mezzo a Napoli. È un voto politico, quindi non è che si vota per il comune o per la regione, possiamo far sentire la voce di Napoli a questo governo che per noi è un governo amico. Io sono il candidato di tutti, è chiaro che vado lì a rappresentare Napoli. Napoli ma anche il mezzogiorno, perché noi e voi che vivete, ma io che vivo con voi, spesso queste periferie, noi diciamo una cosa vera, che Napoli senza Scampia non è il Napoli. Il sogno è un diritto anche nostro. L'idea del lavoro, di sistemare una famiglia, di vivere dignitosamente, è un diritto di tutti e quindi noi su questo staremo in queste periferie senza essere smentito che la politica deve tornare a occuparsi delle persone.